Come nasce un robot? Come si fa a farlo muovere? Come si crea un personaggio? Come si costruisce una storia animata? Hanno trovato risposte a queste e ad altre domande i bambini delle classi quarte della primaria di Torre Calzolari partecipando alla giornata della tecnologia promossa dal DigiPass e dalla biblioteca sperelliana in collaborazione con gli assessorati alla cultura e all'agenda digitale. 32 bambini che di prima mattina nei locali del DigiPass di Via Gioia hanno preso confidenza con la robotica aiutati dai consulenti di Ideattivamente, una start-up che si occupa di gioco didattico finalizzata all'apprendimento e allo sviluppo della creatività in maniera divertente e non convenzionale. Il must oggi era la robotica educativa, ovvero la costruzione, programmazione e sperimentazione di un piccolo robot. In questa giornata hanno iniziato a costruire dei robot, quindi abbiamo prima introdotto il tema della robotica quindi con le differenze vere tra uno strumento programmato e uno strumento telecomandato e adesso lo stanno costruendo per poi passare alla fase di coding cosiddetta dove quindi andremo a programmare, a farlo muovere attraverso un tablet. Quindi un lavoro che li porta a fare due attività in una, quindi costruire, quindi lavorare in gruppo, costruire un oggetto, capire come si costruisce, andare a vedere le problematiche che ha nel momento in cui sbaglia un pezzo e poi a farlo funzionare, quindi vedere l'effetto finale in un movimento sul tavolo che faremo sul tavolo attraverso anche dei sensori. Quindi il robot sarà in grado di trovare un ostacolo e in base poi alle condizioni che loro decideranno quando trova un ostacolo farà un'azione. Dal DigiPass alla biblioteca sperelliana per la lettura di fiabe di Gianni Rodari da cui trarre poi personaggi da disegnare e, tornando al DigiPass, inserire nel computer per poi dare loro vita realizzando vere e proprie storie animate. Il tutto in uno spirito che è di apprendimento e gioco insieme e che coniuga il sapere più prettamente tecnico-informatico con quello umanistico-letterario. Il coding, secondo noi, è una metodologia di indagine della realtà e anche di unificazione dei saperi. Abbiamo voluto fortemente questa sinergia tra la parte scientifica legata alle STEM e la parte invece più narrativa, proprio perché, a nostro avviso, i saperi si devono coniugare e la loro realtà è questa, la realtà in cui sono immersi i bambini è proprio questa di una bellezza, diciamo, dell'interpretazione della realtà che non ha visioni parcellizzate come magari quelle di noi adulti. La giornata della tecnologia non sarà l'unica, ne seguiranno altre alle quali il terzo circolo didattico di Gubbio parteciperà con ognuno dei suoi plessi. Ma il progetto è rivolto a tutte le scuole, anche non eugubine, che vogliono approcciare al tema del coding e della robotica e in generale a un metodo educativo basato sulla creatività sistematica, ovvero l'abilità di pensare in modo creativo e ragionare in modo sistematico.